Allora, io vi do solo il buongiorno, benvenuto a questa conferenza di inizio stagione, prima mi chiedo la parola al direttore Bonato e poi anche a Rastelli per le domande, vi chiedo solo una cortezza e una cortesia, come sapete tutto è riproducente dalla conferenza stampa ma non in diretta video sui social, grazie, cedo la parola al direttore Bonato. Buongiorno a tutti, inizia ufficialmente la stagione 2019-2020, una stagione che per noi deve essere una stagione di continuità sulla base di quello che si è stato fatto negli ultimi tre mesi della stagione, di crescita e miglioramento su tutti i punti di vista, che è un profilo tecnico, ma anche un profilo della nostra organizzazione interna, credo che l'esperienza che ho potuto fare per i sei mesi, sette, forse per il mister, sono stati molto importanti, sono stati importanti per capire le dinamiche dell'ambiente, le dinamiche dello studiatoio, le eventuali necessità. È normale che l'obiettivo di quest'anno è l'obiettivo di miglioramento, di miglioramento mirato, frutto anche di una programmazione, frutto di una volontà di crescita continua e costante senza voli più dalici, perché questo è fondamentale. Il cavaliere Arvedi ci ha dato l'opportunità comunque di lavorare nei migliori modi e quindi lo ringraziamo fortemente, perché sappiamo tutti che abbiamo una proprietà molto importante alle spalle e dobbiamo tutti dare il 120% per poter ottenere risultati che sappiamo bene che nel mondo del calcio non sono scontabili, perché non sempre uno più uno fa loro. La volontà nostra è quella di guardarsi su un gruppo che è stato costruito questo anno, che ha passato una stagione di alte e basse con qualche difficoltà, ma che è stato proprio di vedere il tutto il braccio anche se è compattato, è l'altro bene di sempre.